Ciao, creatura Io sono Ecate Splendenti, benvenuta o bentornata nel regno di Kuzai E-S-M-A E' con enorme orgoglio che questa sera vado a presentarti queste creazioni Perché è nato tutto da un progetto di una persona che io ammiro molto E perché una mia amica sono molto orgogliosa di tutto l'impegno E di essere riuscita a portare avanti le sue idee Sia in campo sportivo che in campo lavorativo So quanto impegno c'è stato dietro e continua ad esserci Quindi io voglio supportarla come posso e come ho sempre fatto E quindi questa sera ti mostrerò le sue creazioni Però prima di tutto andiamo a vedere di cosa si tratta Allora il brand, chiamiamolo il brand Si chiama Martis Ed è di Marta Mattioli Martis gioielli per la precisione Allora ha aperto un sito online dove acquistare tutte le sue creazioni Adesso andiamo a leggere la presentazione del sito perché merita Martis nasce nel 2019 Dalla passione di una giovane artigiana italiana Che apre il suo laboratorio nel cuore pulsante di Milano Per creare le sue linee di gioielli E soddisfare le richieste dei clienti L'ispirazione delle sue creazioni Arriva da ogni input Dall'esterno Natura Città Persone Animali Tutto ciò che le trasmette emozioni Viene ricreato con metalli preziosi e gemme Dalla lavorazione orava dei metalli al taglio delle pietre Martis si impegna a realizzare i prodotti interamente fatti a mano Ho anche un codice sconto per voi Lo dico subito Comunque trovate nell'info box Il link del sito Il link del profilo di Instagram E anche il codice sconto I gioielli sono in argento 925 Fatte interamente a mano E con il codice sconto ECAT10 C'è il 10% di sconto Su una spesa minima di 69 euro Quindi capite che non sono cose cinesi Sono cose di qualità ottima Fatte a mano Quindi è ovvio che non costino Come su Aliexpress Però quelli su Aliexpress sono cose piene di nickel Che a guardarle solo si rompono Queste sono cose ottime Appreggiate Insomma C'è anche solo i packaging Com'è molto estetica Posso mostrarvi alcune sue creazioni Questo è il packaging Con il suo logo Qui in Martis C'è anche il biglietto da visita Che però Si veda Casomai metterò Il logo da qualche parte Orificeria artigianale Via Molino Delle Armi 5 20123 Milano Con il numero di telefono Comunque tutte queste cose C'è anche Facebook Tutte queste informazioni Le troverete nell'info box Di questo video Quindi non preoccupatevi Creature mia C'è anche un biglietto Che dice Ciao Ecate splendente Spero che i miei gioielli Siano di tuo gradimento Ti lascio un fantastico Codice sconto Riservato ai tuoi iscritti Ecate 10 Meno 10% Su ordini Con il minimo 69 euro Di spesa Bene Allora abbiamo Uno Due Tre E quattro Gioielli Ci sono due Sacchettini neri E due E due sacchettini rossi Perché anche l'occhio Con la sua parte Con il packaging Del prodotto Andiamo a vedere Questo dettaglio Che c'è in ogni sacchettino Ovvero Ha stampato il logo Su questo Medaglione In legno Molto estetica Secondo me Mi piace molto Beh andiamo a vedere subito La creazione Che ho tra le mani Ragchiusa in questo Sacchettino di organza Rosso Wow C'è una pietra Che vi mostrerò Nel dettaglio Ma si vede anche così Questa è anche La spiegazione Nel retro Il quasso Citrino Rafforza L'immaginazione E la volontà Che porta Luce Energia A tutti Chakra Questa pietra È considerata Capace di portare Ricchezza Materiale Ed è usata Per partire Con il piede giusto Nelle Nuove attività Casualmente Mi ho mandato Questa A livello fisico Il citrino Porta maggior resistenza Ed energia Al corpo Ed aiuta A velocizzare Il metabolismo Wow È una vera pietra Ovviamente Non è Resina O O Plastica Modellata Da lei Se si dice così Bella Allora La porterò Sempre con me Perché in questo periodo Mi serve Troppo Andiamo a vedere L'altra pietra E a leggere Il significato E questa si vede Un po' Non si vede Molto bene Perché è molto Trasparente Però C'è sul Violetto Sul violetto E sul blu Però è Trasparente Molto più Trasparente Dell'altra Si vede Meglio così Con lo sfondo Nero Si abbina Un po' Al mio Makeup Il mio Makeup Lo ha Il colore Lo ha scelto Ninfea SMR Che saluto C'è Ninfea Ho scelto I colori Che mi hai detto Tu Blu Verde Acqua E champagne Tipo Oro Ecco qua Allora La Iolite Aiuta A diventare Coscienti Della ricchezza Interiore E a creare Armonia mentale E spirituale Grazie Marta Mi serve Davvero Questa Tutte e due Mi serve Questa pietra Aumenta La vitalità E migliora Le funzionalità Degli organi Grazie alle sue Proprietà Combatte Le infiammazioni Della gola E aiuta Nelle allergie Asmatiche Buono a sapersi Beh queste comunque Devo Trovare modo Di portarle Entrambe Insieme Soprattutto Quella gialla In questo periodo Devo dire Bene Andiamo a vedere Le altre due 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 creazioni Allora Ma faccio vedere Subito questa Perché io Mi sono innamorata Appena l'ho vista La trovate anche Sul sito Questo Quindi Potreste Comprarvi Un gioiello Quello Il mio Se vi va E avremo Tutte Due E te Creatura Lo stesso gioiello Non sarebbe male Allora Il pacchettino nero Di organza 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 Ed è Un anello Bellissimo Fatto a mano Che cioè Oh mio dio È strabello Cioè È Semplice Ma allo stesso Tempo Bellissimo E lo voglio Indossare Su questo Dito qui Comunque È strabello Cioè Mi piace tantissimo Lo trovate Anche sul Sul suo sito Ho visto Giallo Voglio indossare Sempre Ed è la mia taglia Perfetta E quindi Ha fatto Su mistura Per me E poi L'ultima Creazione L'altro Sacchettino Nero Che adoro Questi sacchettini Neri È una collana Fatta con Una catena Così E c'è Questa creazione Che è stata Scolpita Si può dire È Totalmente A mano Da lei Ed è Uno Scheletro Questo Scheletro Qui Bellissimo È super Aesthetic Secondo me Ce lo Adoro Finalmente Qualcosa Che posso Indossare Senza avere Il timore Di avere Allergie Perché Voglio dire Eh no Non si vede nulla Perché ho il microfono davanti Però Non vedo l'ora Di Indossarlo Mi piace Tutto Tantissimo È Ha quel tocco Di Dark Diciamo Perché è uno Scheletro Restando comunque Molto minimal Molto Artistico Aesthetic Io direi E voi cosa ne pensate Fatemelo sapere Nei commenti Spero che questo video Ti sia piaciuto E ti abbia fatto rilassare Mi raccomando Andate a seguirla Su Instagram Per supportarla Perché Gli artigiani Scrasse Cioè Ormai Non si Vedono più Ragazzi Ragazze giovani O di qualsiasi età Che comunque Hanno la voglia E la forza Di aprire nuove attività Specialmente di questo tipo Fatte a mano E tutto Quindi Bisogna supportarla Giovanitaliane Quindi Se non avete La possibilità Di acquistare I suoi gioielli Però potete Supportarla Con Seguendola Sui social E mettendole I like Detto questo Io vi saluto Vi auguro Buonanotte Buon relax Ciao Creatura Grazie a tutti Grazie a tutti